Buongiorno, sono Davide, il responsabile del negozio P-Quadro di City Life a Milano. Sono qui per presentarvi lo zaino Roll Top della linea Blade. Si tratta di uno zaino dallo stile informale e dinamico, realizzato con un tessuto tecnico resistente all'acqua e antistrappo, abbinato a dettagli in pelle. L'organizzazione è pensata per rendere il prodotto il più destrutturato possibile e quindi ultraleggero. Sullo schienale è presente una tasca imbottita, fatta per contenere un PC da 15,6 pollici. C'è inoltre una fascia per l'aggancio al trolley che, se chiusa sul fondo, può essere usata come un'ulteriore tasca. L'ampia apertura del comparto principale rende l'accesso alle tasche interne facile e diretto. Su uno dei lati c'è una tasca esterna rivestita di fodera impermeabile per contenere una bottiglietta. Gli spallacci sono imbottiti per un maggiore comfort. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a visitare il nostro sito web e i nostri negozi in Italia e nel mondo.